Una lite furiosa per problemi condominali, futili motivi che però hanno arroventato gli animi fino a far degenerare tutto, in una chiassata notturna che ha svegliato molti dei residenti di un caseggiato di via Bachelet nella zona di via Traversetolo. Dissidi tra vicini di casa che andavano avanti da tempo, finché quel diverbio è andato fuori controllo quando una donna, una tunisina di 55 anni, ha estratto un coltello puntandolo ad alcuni condomini. A quel punto qualcuno ha avvisato i carabinieri. In piena notte i militari sono arrivati in via Bachelet, ma gli animi si erano tutt'altro che raffreddati. Anzi, alla vista dell'auto del 112, la 55enne ha brandito il coltello davanti ai carabinieri, minacciandoli insieme al figlio che si era unito alla madre per inveire contro i militari. A quel punto è cominciato un vero e proprio corpo a corpo tra madre, figlio e carabinieri. I militari con estrema fatica alla fine sono riusciti a bloccare i due e ad ammanettarli, quindi il trasporto nella caserma di via delle Fonderie. Per i due tunisini è scattato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sempre i carabinieri, a conclusione di un'attività investigativa, hanno deferito all'autorità giudiziaria due italiani di 31 e 22 anni e una magrebina di 27 anni, tutti residenti nel Reggiano, per un furto in profumeria avvenuto agli inizi dell'estate. La donna, con la scusa di volere provare un profumo, aveva distratto il commerciante, mentre i due si occupavano di sottrarre il contenuto della cassa 150 euro.